Grazie a tutti! Non altro che a voi, soltanto a voi. Cassandra! Cassandra! Apollonia! Apollonia! Vittoria! Vittoria! Grazie a voi la missione può essere ritenuta conclusa e l'obiettivo raggiunto. Per i meriti conseguiti, per l'onore, il coraggio e la fedeltà dimostrati, secondo i meriti conferitimi, vi nomino grandi sacerdotesse comandanti in capo del presidio Pianeta Terra. Oggi, anno astrale 11.675, il Pianeta Terra è finalmente libero. E finché tutto rimarrà sotto il nostro controllo e tutti obbediranno alle nostre regole, persisterà la pace e la democrazia. La pace e la democrazia. La pace e la democrazia. E ho raggiunto il tempo per me di congedarmi. Il mio lavoro qui è terminato. Altri pianeti ho da visitare. Altre vite mi attendono. Altri pianeti ho da visitare. Altri pianeti ho da visitare. Altri pianeti ho da visitare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.